per un minuto di storia con mario oggi parliamo del trattato di san germano non avete idea di cosa sia ed è per questo che dovete seguire questa rubrica il trattato di san germano in realtà un passaggio estremamente importante perché il trattato tra i due universalismi del tempo medievale ricordate qualcosa dagli studi di scuola media magari il liceo ancora una ragione per seguire questa rubrica i due universalismi sono il papato e l'impero bene nel trattato si mettono d'accordo finalmente firmano l'intesa due grandi personaggi l'imperatore federico secondo di sveglia e il papa gregorio nono federico secondo aveva rifiutato di guidare la crociata del 1225 per questa va rotto col papa onorio terzo gregorio nono lo rimette diciamo così in pace con dio e con gli uomini